non li prendete questi uccellini? niente non ci riuscite a prenderli è vero? non ci riescono a prenderli gli uccellini non li avete presi questi uccellini ma ve lo fanno per dispetto andare là vero? si mettono lì vi fanno il dispetto che voi li volete prendere e non ci riuscite dove è andato quell'uccellino? dove è andato? eccolo là che vola vi fa impazzire vi fanno impazzire questi uccellini ciao buona giornata buon lavoro a tutti noi pure lavoriamo qui nella caccia all'uccellino c'è che c'è amore? gna 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 ciao buona giornata anche i cagnoloni vi salutano ora andiamo a sistemare tutto dentro il macello che avete fatto ciao chiaretta se n'è andato l'uccellino? se n'è andato mia? wow è tornato l'uccellino? secondo me spariranno pure da qua gli uccellini solo a vedervi hanno paura si si solo a vedervi si spaventano è vero a loro ciao buongiorno ciao buongiorno sherry scusa scusa no 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 che grida sherry non vuole contatti stretti dai all'opera ciao Zani ecco Zani pure lui c'è la pedana là Zani che ti ho fatto fate salire a Zani dalla pedana bello Zani ecco Zani pure lui nel giardinetto vero Zani Zani anche lui coda del giardinetto ciao buona giornata ciao chi c'è sotto la coperta? ciao Alice Leoncino qua dobbiamo sistemare ancora tante cose Zuccone Zuccone Zucco Lea sei nella tua casetta Lea guardateli se non era tutto chiuso questi erano usciti tutti eh difficile fagli una foto a tutti quanti ok ci mettiamo all'opera così rimpizziamo pappe, lettiere e tutto quanto eh ciao Piuma ti piace qui amore ti piace Piuma ciao Puntino amore Puntino no, 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 no ciao Moustache ciao ciao ciao